Panoramica del laboratorio Federici. Ecco qua tutto il campionario, ci sono varie cornici, vari stili, varie epoche, alcune sono intagliate a legno, altre sono di pastiglia, la maggior parte dorate, laccature, ecco il banco da lavoro con i vari strumenti, si notano gli scalpelli là sotto, poi qua vediamo un'altra parte del laboratorio con varie attrezzature, sul fondo le macchine per costruire i telai, un altro banco da lavoro, complementi d'intaglio, altre cornici, strumenti per le patine, ed ecco un altro banco da lavoro.